Con il tema di italiano sono iniziati oggi gli esami di maturità 2022 in Calabria, 20.000 studenti li affrontano, domani la seconda prova scritta di indirizzo. Catanzaro verso il voto tra quattro giorni, elettori nuovamente alle urne per scegliere il nuovo primo cittadino tra Valerio Donato e Nicola Fiorita. Cronaca e finita la ditanza di Vittorio Raso, considerato boss di indrangheta, catturato in Spagna mentre guidava l'automobile con documenti falsi. Quasi 900 milioni spesi sulla dotazione 14-20 nell'ambito del PSR in agricoltura, dato certificato al comitato di sorveglianza. Il Magna Grecia Park presentato a Crotone è un'idea che convince il mondo delle imprese, per la politica è una sfida avvincente. Mercoledì 22 giugno 2022, ben trovati sul 15 per l'informazione regionale di Esperia TV in apertura. Gli esami di maturità sono iniziati quest'oggi, ci sono 20.000 studenti calabresi che li affrontano, esami di maturità partiti col tradizionale tema di italiano. E' il giorno più importante per i quasi 20.000 studenti calabresi che affrontano la prova di maturità, tornata quasi alla normalità dopo i due anni segnati dal Covid. Si comincia con la prima prova scritta, il compito di italiano, e prima di varcare i cancelli della scuola si fanno le previsioni più disparate sulle possibili tracce, tra facce preoccupate e chi esorcizza la tensione con scherzi e battute. Con un po' di ansia, come giusto che sia, però la speranza è l'ultima a morire, speriamo. Comunque è bello anche condividerlo con tutti, in presenza, senza magari come è stato per gli altri anni, dove c'è stato il maxi orale che è durato relativamente poco rispetto magari agli esami tradizionali. Quindi è bello anche condividere questo momento. Innanzitutto sono volati cinque anni e perdo dei amici che sono stati una famiglia, anche dei professori che comunque ci hanno sempre sostenuto e da domani non ci sarà nessuno che comunque ci aiuterà oppure ci supporterà ogni giorno. Ebbè, cioè pensiamo che possa uscire qualcosa soprattutto di attualità, covid, guerra, poi di altro non sappiamo nulla, di altro un mistero più che altro. Da una poesia di Pascoli a una novella di Verga, un testo di Gerardo Colombo e Liliana Segre, negli argomenti delle tracce entrano anche i cambiamenti climatici, l'iperconnessione, la musicofilia, le conseguenze della pandemia sul pianeta. Con un po' d'ansia, ma contento perché ormai ho finito praticamente, quindi un misto tra... Sono gli orali. Eh vabbè, ma gli orali è l'ultimo step, ormai siamo all'inizio e alla fine del percorso, quindi spero che finisca nel migliore dei modi. Un po' d'ansia ma sono comunque felice. Tranquillo, al massimo. Dai, siamo un po' emozionati per questa giornata, però alla fine speriamo di cavarcela. Voltiamo pagina. Ho avuto un lungo incontro con il patron di MSC a Ponte. Abbiamo parlato anche della possibilità di utilizzare la intermodalità per poter spedire le nostre merci in Europa. Lo ha detto il presidente della regione, Roberto Occhiuto, che è a Ginevra, dove ha incontrato Gianluigi Aponte, appunto il patron di MSC, il terminalista del porto di Gioia Tauro. Preannuncio, dice Occhiuto, che martedì in Consiglio regionale porteremo una norma che rafforza gli obiettivi della intermodalità. Come si sa, da Gioia Tauro partono già due treni. La nostra idea è quella di investire, se possibile, risorse per far partire quanti più treni possibili. La politica, la politica Catanzaro verso il voto di ballottaggio. I cittadini catanzaressi saranno chiamati domenica prossima nuovamente alle urne. Il secondo turno per scegliere il loro primo cittadino. In campo ci stanno Valerio Donato e Nicola Fiorita. La campagna elettorale alla battuta è finale. Intanto nei giorni scorsi Donato ha incassato l'appoggio di Fratelli d'Italia, che al primo turno correva con Vandaferro. Certo che sono fiducioso, si amplia, ma devo dire che sin dall'inizio, come a tutti noto, ho lanciato una proposta aperta a chiunque, a tutti, a qualunque schieramento politico, perché come diceva l'onorevole Ferre, è una proposta che parte dalle esigenze della città per tentare di risollevare, di far rinascere questa città, sia attraverso la formazione più intensa di una comunità politica, sia secondo prospettive percepibili immediatamente dai cittadini, attraverso un governo di buonsenso di questa città, nei servizi ordinari e nello sviluppo futuro che potrebbe oggi essere determinante attraverso sia risorse ordinarie, sia attraverso le risorse del PNR. A proposito del ballottaggio da Donato, invece adesso andiamo nell'altro campo, il centro-sinistra che è in campo con Nicola Fiorita, che punta molto sui quartieri e soprattutto sui temi della sicurezza e dice Fiorita, ho già la squadra pronta per governare Catanzaro. Più volte abbiamo individuato la questione, il binomio sicurezza politica e sociali come una delle priorità della nostra azione. Catanzaro, tanti cittadini catanzaresi, soprattutto nelle zone sud della città ma anche in altri quartieri, chiedono un intervento deciso sull'ordine pubblico, sul contrasto alla criminalità, sulla sicurezza e abbiamo individuato la figura adatta in Marinella Giordano, stimatissima dirigente della Polizia di Stato che a Catanzaro ha lavorato e ha ottenuto importanti risultati, a lei affidiamo il compito di dirigere l'ufficio Città Sicura, ma la sicurezza per noi è anche un grande investimento sulle politiche sociali, sulla rimozione delle sacche di disagio, del degrado di alcuni quartieri che generano inevitabilmente una mentalità distorta e percorsi di vita sbagliati. In cronaca Vittorio Raso, considerato boss dell'Andrangheta, è stato arrestato in Spagna quanto riporta il quotidiano El País. Raso è stato fermato nel corso di un controllo stradale di routine mentre guidava con documenti falsi, arrestato già una prima volta in Spagna nel 2020, venne poi rilasciato su ordine di un giudice e da allora era latitante. A gennaio di quest'anno la polizia italiana sequestrò in un garage di Nichelino in provincia di Torino oltre 400 mila euro in contanti, insieme a orologi Rolex e gioielli dal valore di oltre 200 mila euro, un tesoro attribuito proprio a Raso. Anche in Calabria c'è attenzione sulla risorsa idrica nel comparto agricolo. Allo Stato non si registra in Calabria un allarme generalizzato per la siccità, ma la guardia è molto alta e si monitora costantemente la situazione delle risorse idriche. Sono diversi anche i comuni che, in previsione di possibili penurie dovute alla recrudescenza del caldo e della mancanza di precipitazioni, hanno emesso ordinanze di divieto dell'utilizzo di acqua potabile per usi non specifici. C'è grande attenzione inoltre nei confronti della problematica da parte del settore agricolo. Col di Retti Calabria segnala che l'andamento climatico, caratterizzato dal caldo anomalo e persistente, rischia di far pagare un conto salato in termini di calo delle produzioni di mais, foraggi e ortaggi. Allarma in particolare la situazione dell'olivicoltura. L'aumento delle temperature e la pioggia insufficiente degli ultimi mesi hanno determinato la caduta precoce di fiori e frutti negli oliveti, con una media regionale del danno che si attesta al 10%, mentre lungo la costa ionica raggiunge picchi di perdite che superano il 60%. Restiamo in tema. Secondo i numeri forniti dalla Regione Calabria, il Comitato di Sorveglianza sulla dotazione 2014-2020 del PSR, la spesa di agricoltura a fine maggio sfiora i 900 milioni, con una percentuale di realizzato dell'82,14%. Prosegue l'avanzamento del PSR, il programma di sviluppo rurale della Regione Calabria, il programma che utilizza i fondi comunitari in agricoltura. Secondo i numeri forniti dalla Regione al Comitato di Sorveglianza, la spesa a fine maggio scorso sfiora i 900 milioni, con una percentuale di realizzato sulla dotazione 2014-2020 dell'82,14% e sulla dotazione 2014-2022 del 64,2%. Gli impegni al 30 maggio 2020 sono pari a 1.257 miliardi, per una percentuale del 115,45% sulla dotazione 2014-2020 e del 90% sulla dotazione 2014-2022. Ad aprire i lavori del Comitato di Sorveglianza, l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo e il direttore generale del Dipartimento Giacomo Giovinazzo. Si è trattato, ha detto Gallo, di un anno difficile per l'agricoltura. Il caro carburanti e il rincaro di prezzi e materie prime mette in difficoltà tutte le aziende agricole del nostro Paese, che non è autosufficiente, con particolare difficoltà per le aziende di regioni come la nostra, che sono lontane dai grandi mercati. Abbiamo tentato di tenere in piedi le aziende agricole durante il Covid, accelerando pagamenti e sbloccando risorse. Gallo si è soffermato anche sulla prossima programmazione. La Calabria nel quinquennio 2023-2027 avrà 804 milioni. Altra novità importante ce lo certifica l'Unical, aumento del 36% dell'export dell'agroalimentare calabrese nel primo trimestre dell'anno. È stato trovato senza vita sotto una parete rocciosa, da dove si ipotizza possa essere precipitato il corpo di Bigi di 52 anni, turista lecchese, in vacanza ad Acquapesa a Terme nel Cosentino. Il cadavere è stato individuato da un drone dei Vigili del Fuoco. Il tracker era uscito nella mattinata di ieri per percorrere un sentiero impegnativo in una zona impervia tra i comuni di Acquapesa e Guardia Piemontese. La pagina della Sanità ha parlato dell'opportunità di utilizzare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza proprio nel settore sanitario. Un esponente di governo, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono una grande opportunità e l'occasione per dare i giusti servizi ai cittadini con un percorso condiviso di piena collaborazione. Credo che la sfida del PNRR sia legata anche alla tempistica della messa a terra di queste risorse, ma siamo convinti che le regioni e gli enti locali saranno insieme a noi protagonisti e sapranno cogliere questa grande opportunità e grande sfida. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, dopo l'incontro con il Presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, sui temi della sanità nella nostra Regione. Ritengo che la pandemia, aggiunto Costa, ci abbia insegnato che le grandi sfide, come quella di provare a disegnare un nuovo sistema sanitario, si affrontano facendo squadra, con l'obiettivo di una sanità che non si prenda solo cura della malattia, ma della persona e quindi con investimenti che aumenteranno la medicina nel territorio e avvicineranno i servizi ai cittadini. Una sfida dove ognuno di noi si deve sentire protagonista. Io credo che sia importante che le istituzioni vengano sempre sul territorio, c'è bisogno di dimostrare vicinanza dello Stato e del territorio, in questo caso alla Calabria, dove certamente per quanto riguarda la sanità dobbiamo ripartire, dobbiamo riavviare un percorso. Lo abbiamo iniziato, riaffidando attraverso il Presidente della Regione, ridando al territorio la possibilità di pianificare e tornare a fare investimenti, quindi siamo convinti che siamo di fronte a una grande opportunità. I fondi del PNRR certamente sono un'occasione, dobbiamo noi tutti assumerci la responsabilità di garantire quel diritto alla salute e sancito e scritto nella nostra Costituzione anche ai calabresi. Il tema del personale è il tema dei temi, purtroppo arriviamo da una pianificazione che non è stata fatta, arriviamo da tagli che per anni hanno colpito il comparto sanitario. Oggi siamo di fronte, però un'inversione di tendenza, per la prima volta abbiamo aumentato il fondo del Servizio Sanitario Nazionale, 2 miliardi all'anno per i prossimi 3 anni, abbiamo raddoppiato le borse di specializzazione, le borse per i medici e medici in generale. Siamo di fronte, ripeto, ad una nuova fase, oggi c'è la consapevolezza che destinare risorse alla salute non è una spesa ma è un investimento, quindi anche la Calabria certamente potrà avere i benefici di questa visione diversa. Dobbiamo insieme costruire una sanità che non si prenda sulla cura della malattia ma che si prenda cura della persona. Sempre per la sanità nelle ultime 24 ore in Calabria si sono registrati 1.288 nuovi casi e due decessi. Il tasso di positività ad oggi è al 25,1%. Sul fronte ospedaliero si registra un nuovo paziente in più nei reparti ordinari, nessun nuovo ingresso nelle terapie intensive. 696 le persone che risultano guarite o dimesse. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ci torniamo sul Magna Grecia Park, un progetto ambizioso presentato l'altra sera a Crotone. Buona la prima si può dire per il Magna Grecia Park, la presentazione del progetto di un grande parco divertimenti, ideato dall'ingegnere crotonese Antonio Lidonnici e dal suo gruppo di lavoro, già al vaio di chi si occupa a livello internazionale di investimenti, ha convinto il pubblico presente. Il mondo dell'impresa guarda con grande attenzione a questa opportunità. È una bella iniziativa, mi piace sottolineare che è sfidante, ambiziosa. Io credo che tutte le altre iniziative, soprattutto calabresi, in questo momento devono essere ambiziose. Credo che si inizia certamente con un azionerato popolare, però le parole d'ordine poi sono due. Il permitting, di cui si è parlato tanto, cioè io credo che la collaborazione pubblico-privato sia fondamentale, soprattutto dagli enti pubblici, perché pensare all'utilizzazione e quindi alla disponibilità di 180 ettari di terreno e avere tutti i permessi necessari, bisogna bruciare i tempi. E questo è fondamentale anche perché se le amministrazioni pubbliche dimostreranno questa velocità, allora io credo che ci sarà anche la disponibilità dei fondi internazionali, che della velocità e dei tempi dell'economia sono immediati, potranno secondo me raccogliere questa iniziativa, perché è un'iniziativa che oggettivamente, a mio avviso, si pone con quelle che sono le caratteristiche del turismo del futuro ed è un'iniziativa di sicuro successo. Ed anche la politica segue con attenzione l'evolversi della vicenda. Nel corso della presentazione si sono detti entusiasti l'assessore regionale al turismo Fausto Orso Marso, il presidente della provincia Sergio Ferrari, il sindaco del capoluogo pitagolico Vincenzo Voce e tanti primi cittadini. Mettono a fuoco quello che era davanti, provano a metterlo a reddito con un progetto che è compiuto e che in altre parti del mondo ha portato risultati e nella Magna Grecia, appunto, MGP può poterne tanti. Non ci siamo, è la prima volta che avviene una cosa all'inverso ed è un fatto positivo, vuol dire che qualcosa si muove, soprattutto a Crotone. Come detto nel corso della presentazione l'idea ha già convinto molti imprenditori ma ora una partita serie rappresentata dalla nascita della fondazione di partecipazione aperta a chiunque voglia sposare il progetto e della partita saranno anche gli enti pubblici. La conferma dell'entusiasmo che c'è da parte di tutti e della possibilità finalmente di realizzare qualcosa di grandioso che servirà per una svolta per questa città e per questa provincia, anche perché si sta ancora individuando il luogo, l'enorme località dove poi andranno a realizzare. Restiamo a Crotone, si è conclusa con il fermo di indiziato di delitto nei confronti di due scafisti di nazionalità turca AH classe 85 MA classe 86, l'attività investigativa svolta dal personale della squadra mobile di Crotone impegnata nell'azione di contrasto del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si tratta dello sbarco del 20 giugno scorso relativo ad 82 migranti di diverse nazionalità. Un anno intenso il 2021 ma anche i primi 5 mesi del 2022 per la Guardia di Finanza. Nel 2021 e nei primi 5 mesi del 2022 la Guardia di Finanza ha eseguito oltre un milione di interventi ispettivi e circa 74 mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Un impegno a tutto campo a tutela di famiglie e imprese destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono i dati forniti dal Comando Generale in occasione del 248esimo anniversario della Fondazione del Corpo. Le attività investigative di analisi sui crediti di imposte agevolativi in materia edilizia ed energetica hanno permesso di accertare frodi per oltre 5 miliardi di euro. Sono stati individuati 5.762 evasori totali ed oltre 26.000 lavoratori in nero o irregolari. Complessivamente gli interventi in materia di spesa pubblica sono stati oltre 69.000. I controlli sul reddito di cittadinanza sono stati scoperti illeciti per 288 milioni e sono state denunciate oltre 29.000 persone. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 1,4 miliardi. Il contrasto al narcotraffico anche via mare ha portato al sequestro di quasi 97 tonnellate di sostanze stupefacenti e di 249 mezzi. Complessivamente l'azione di contrasto dell'immigrazione irregolare via mare ha portato all'arresto di 171 scafisti e al sequestro di 714 mezzi. Palazzo Alvaro, sede della città metropolitana di Reggio Calabria, ha accolto la visita di un gruppo di 50 studenti provenienti dall'Ucraina, ospiti da un mese della comunità parrocchiale di San Nicola di Bari a Roccella, Ionica. Dopo una puntata al Museo Nazionale, dove hanno avuto modo di apprezzare i bronzi di Riace, i ragazzi accompagnati dal parroco padre Francesco Carlino sono stati accolti all'interno della sala consigliare dove la presenza dei consiglieri Giuseppe Ranuccio e Rudy Lizzi hanno consegnato una bandiera dell'Ucraina al sindaco facente funzioni Carmelo Versace. Ed ora in coda al TG la pagina sportiva, vediamo. Testa sul presente con un occhio al futuro, la nuova era Saladine è partita in casa regina tra scadenze imminenti e ambizioni sempre più alte del popolo amaranto. La prima deadline è a un passo, entro la mezzanotte di oggi dovrà essere formalizzata la domanda di iscrizione alla prossima stagione di Serie B. Secondo i primi rumors, la documentazione sarebbe ormai completa con un primo calcolo di spesa di oltre 3 milioni di euro, più del previsto rispetto alle stime iniziali dei ben informati. Roberto Stellone proseguirà senza nessun tipo di dubbio il rapporto con la regina, il tecnico ha aspettato fino in fondo gli amaranto nonostante qualche altra proposta, in particolare quella del Siena in Serie C. In casa Cosenza, Gemmi e Dionigi hanno puntato gli occhi su Michele Carvion per il centrocampo, cartellino di proprietà della Salernitana che nelle scorse stagioni ha vestito la maglia del Vicenza. In Serie C l'obiettivo è lo stesso, la sticella sempre alta per il Catanzaro, pronta ad aggredire il calciomercato. Il direttore generale Diego Foresi e il neodirettore sportivo Giuseppe Magalini stanno cominciando a lavorare per confermare gran parte della rosa della costa stagione a partire da Pietro Iemmello che è tornato al Frosinone per fine prestito. C'è Chi Puntella che invece rivoluzionerà come il Crotone che scandaglia il mercato di C alla ricerca di pedine funzionali per il calcio di Franco Lerda. Tommaso Branduani il nome per la porta, Rocco Costantino è l'ultima pedina sondata per l'attacco. Al tecnico ex Provercelli piace molto il profilo di Elbis Cabasci per il centrocampo a scuola Juventus e riducire una grande stagione. Per le previsioni del tempo diamo la linea agli esperti di Trebimeteo.com Amici di Trebimeteo un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. L'anticiclone africano rimane sempre ben saldo sul Mediterraneo e sull'Italia garantendo condizioni in prevalenza stabili e assolate però vedete infiltrazione di aria più umida. Interessano l'Europa centrale sfiorano le Alpi dove avremo una maggior instabilità. Per quanto riguarda la nuvolosità presente sulla nostra penisola ci attendiamo comunque il transito di qualche nuvola alta e stratificata soprattutto sui settori tirrenici sulla Sardegna mentre un po' di variabilità diurna interesserà le Alpi e l'Appennino. Per quanto riguarda la previsione dunque ci attendiamo qualche spot instabile temporalesco soprattutto al pomeriggio sulle vette alpine, il passaggio di un po' di nubi tra Liguria, Toscana e Emilia Romagna e sull'Appennino cento settentrionale ma con fenomeni essenzialmente limitati ai rilievi comunque piovaschi di breve durata. Altrove tanto sole e clima caldo con massime fino a 35-36 gradi al centro-sud quindi in ulteriore aumento ma punte fino a 34-35 saranno possibili anche in Val Padana. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli vi lascio all'App gratuita di Trebi Meteo. È tutto grazie per averci seguito torneremo più tardi a dopo